Eccoci arrivati al quarto ed ultimo gruppo di questa sera, il quarto gruppo comprende quattro canzoni, perciò ripetute saranno otto esecuzioni. La prima di queste è Chi non lavora non fa l'amore, di Beretta del prete Celentano, canta Adriano Celentano, dirige l'orchestra Roberto Negri. Chi non lavora non fa l'amore, Questo mi ha detto, ieri mia moglie Chi non lavora, non fa l'amore Questo mi ha detto, ieri mia moglie A casa stanco, ieri ritornai Mi son seduto, niente c'era in tavola C'era lo sciopero, anche dei tramvai Buon scioperato Scusate, ma mi è capitato anche il feste di Sanremo Di sbagliare le parole, devo rifarla da capo Non è uno scherzo, l'ho sbagliato davvero Chi non lavora, non fa l'amore Questo mi ha detto, ieri mia moglie Chi non lavora, non fa l'amore Questo mi ha detto, ieri mia moglie A casa stanco, ieri ritornai A casa stanco, ieri ritornai Mi son seduto, niente c'era in tavola Arrabbiata, lei mi grida che Ho scioperato due giorni su tre Coi soldi che le do, non ce la fa più Ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me Chi non lavora, non fa l'amore Questo mi ha detto, ieri mia moglie Allora andai a lavorare E un grosso pugno in faccia mi arrivò Andai a piedi alla guardia medica C'era lo sciopero anche dei tramvai Arrivo lì ma il dottore non c'è E in sciopero anche lui Che gioco è? Ma, ma come finirà? Da 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 C'è il caos nella città Da 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 Non so più cosa fare Da 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 Se non sciopero mi picchiano Se sciopero mia moglie dice Chi non lavora, non fa l'amore Dammi l'aumento, signor padrone Così vendrai che in casa tua E in ogni casa entra l'amore Così vendrai che in casa tua E in ogni casa entra l'amore Così vendrai Così vendrai che in casa tua